Un'Europa sempre più intollerante, discriminatoria e xenofoba, e questo è la quadro che emerge dall'ultima rivelazione dell'Eurobarometro pubblicata in concomitanza con la due giorni di incontri sui diritti fondamentali organizzata dalla Commissione Europea. Poi nel 64% degli intervistati sono in forte aumento fenomeni di intolleranza contro le minoranze etniche, mentre il 50% ritiene che siano in aumento anche quelli contro le minoranze religiose, dati comunque in crescita rispetto alla precedente rilevazione del 2012. Per il Vice Presidente della Commissione Europea, Franz Timmermans, i numeri sono figli della crisi e dell'incertezza sul futuro economico dell'Unione. L'Europa diventa sempre più intollerante quando c'è una crisi, lo abbiamo visto già nel corso della storia passata, e bisogna imparare dalla storia, ad essere consapevoli della sua esistenza. L'intolleranza deve essere combattuta perché la sopravvivenza della società europea dipende dalla nostra capacità di vivere insieme con culture e religioni diverse. Nonostante il generale quadro pessimista dal sondaggio o robarometro emerge anche come il 70% degli intervistati abbia amici o conoscenti di fede o d'etnia diversa dalla propria.